Il Governo è in calza sul reddito di cittadinanza. Che impatto avrà sulla vostra struttura? Allora, intanto sicuramente un impatto positivo necessariamente lo avrà. Perché? Perché il fatto che riusciremo a colmare con le nuove assunzioni il gap, o almeno in minima parte il gap che noi abbiamo nei confronti del resto dell'Europa come persone addette ai servizi all'impiego, sicuramente sarà un impatto positivo. Riusciremo ad aumentare il servizio all'utenza. Come poi funzionerà nel dettaglio il reddito di cittadinanza? Chiaramente noi in questo momento non abbiamo ancora chiaro il dettaglio amministrativo, ma noi già pensiamo di essere pronti per tutte quelle che sono le attività di occupabilità, di interesse nei confronti dell'utenza, di servizi nei confronti dell'utenza che già forniamo e che riusciremo a fornire sicuramente ancora meglio. Grazie a tutti.